la testa della gara e farò il massimo ultima email di Stefano Zanti Stefano Zanti da Augusta ci scrive dice spero che non venga data la partenza dietro la CFT Car sarebbe un colpo per la Formula 1 dice è assurdo come ormai i piloti non si prendono più certi rischi come una volta sotto la pioggia dove sono finiti i cavalieri del rischio ne parlavamo proprio con Gianna Lisi prima della gara tu eri un po' un cavaliere del rischio Gianna i tuoi tempi erano un po' diversi effettivamente